Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica Partenopea, ha denunciato 22 soggetti facenti parte di una strutturata organizzazione dedita alla contraffazione Marchi. In particolare i baschi verdi del gruppo Pronto Impiego hanno disarticolato una filiera del falso, sequestrando tra i quartieri napoletani di Secondigliano, Pendino, Vasto, Pianura e di comuni di Giuliano in Campagna e Casanovo di Napoli, oltre mezzo milione tra capi di abbigliamento, accessori ed etichette contraffatti, 17 tra opifici e depositi clandestini e 873 macchinari. L'indagine è partita dall'individuazione di laboratori irregolari di produzione, assemblaggio e confezionamento dei capi di abbigliamento falsi e dalla successiva scoperta di siti di approvvigionamento dei capi neutri privi di marchio, sui quali venivano apposti i loghi ed etichette contraffatte di noti brand, tra cui Louis Vuitton, Chanel, Lacoste, Fendi, Gucci, Armani, Adidas, Colmar, anche questi ultimi realizzati in stamperie clandestine. Gli opifici erano organizzati con macchinari, plotter tipografici, termopresse a caldo e macchine da cucite professionali e persone in grado di seguire tutti gli step economici, dalla produzione alla commercializzazione della merce falsa, quest'ultima destinata sia alla vendita diretta dagli acquirenti, sia sulle bancarelle all'interno del mercato della Maddalena, situato nel cuore di Napoli. Durante gli accertamenti inoltre è stato riscontrato che due laboratori clandestini si approvvigionavano di energia elettrica attraverso allacci abusivi alla rete pubblica realizzati con il sistema del bypass, che permetteva di utilizzare l'elettricità senza far rilevare il consumo dei contatori. L'operazione si inquadra nell'ambito del dispositivo di contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione, orientato prevalentemente a disarticolare la filiera del falso e a rimuovere i canali di approvvigionamento. Il valore della merce sequestrata nella soddetta operazione ammonta circa 6 milioni di euro.